Il Papa scrive, pregiatissimo Signore, con cortese lettera recentemente qui pervenuta, gli studenti dell'Istituto Adriano Olivetti di Fano hanno voluto indirizzare al Santo Padre Francesco espressioni di devoto ossequio, rivolgendogli al tempo stesso una particolare richiesta. Mentre chiede di pregare per la sua persona e per il suo servizio alla Chiesa, invia di cuore a lei e a quanti ella rappresenta il suo benedicente saluto. Circa l'istanza devo purtroppo significarle che non è possibile accoglierla positivamente. I ragazzi dell'Olivetti chiamano e Papa Francesco risponde con questa missiva e dando la sua benedizione per questo evento. Un vero e proprio tuffo nel passato, una serata con i nobili Petrucci tra il 1500 e il 1600, quando la famiglia nobile abitò l'omonimo palazzo in Via Nolfi 37 a Fano, sede da 50 anni dell'Istituto Professionale Olivetti, e che alla morte dell'ultimo discendente fu donato all'ordine dei Francescani a cui appartiene giusto appunto il Pontefice. Abbiamo deciso di scrivere una lettera al Papa perché lo volevamo rendere partecipe di un momento formativo importante che si svolgerà all'interno della nostra scuola il 19 marzo. L'idea è nata grazie ad un approfondimento tenuto dalla professoressa Ucci, la quale ci ha spiegato che nel 1500 Antonio Petrucci incontrò proprio qui a Fano il cardinale Carlo Borromio. Saranno proprio gli studenti dell'Olivetti indossando abiti d'epoca con l'aiuto della pandolfaccia a dar vita sabato 19 marzo alle 15.30 a questo evento culturale con l'obiettivo di incoraggiare gli studenti allo studio della storia diventandone i protagonisti. La seconda edizione di questa rievocazione storica che appunto abbiamo pensato di ripetere quest'anno, sempre questa sede qua di questo prestigioso palazzo, no? Palazzo Petrucci che ospita oggi l'Istituto Olivetti. Ecco, quest'anno però ecco il tema che vogliamo trattare riguarda specificatamente l'incontro che Antonio Petrucci ha avuto con il cardinale Borromeo. Nella suggestiva cornice del palazzo i ragazzi creeranno suggestive performance leggendo testi e creando scenografie legate a quel contesto storico. C'è un coinvolgimento a vario titolo insomma dei ragazzi e credo che siano queste delle occasioni veramente importanti. Qui abbiamo la Pandolfaccia che appunto interviene, abbiamo l'orchestra da camera contralto e abbiamo la scuola di danza di musica diretta da Messo Sabatini. E in più, ecco, concludo dicendo anche che è anche, diciamo, ha un aspetto fortemente educativo perché c'è anche questo aspetto della solidarietà, no? Che quest'anno è dedicato a sostenere l'associazione italiana sulla sclerosi multipla di cui testimonia lei Ivan Cottini che sarà appunto presente anche con noi quella sera e che, ripeto, ecco, diciamo il ricavato della serata appunto andrà a questa associazione e quindi credo che anche, ecco, da un punto di vista, diciamo, così educativo nei confronti non solo dei ragazzi ma di tutti noi, ecco, il tema della solidarietà sia sempre un tema importante.